Buongiorno ragazzi, oggi video epocale, stratosferico, mega galattico e vi do 5 secondi di tempo per guardare lo schermo e dirmi cosa vedete di così epocale, super fantasmagorico. Per quelli di voi che mi hanno detto B sono i 999 pacchetti, avete sbagliato barbonazzi perché ne ho ben 2389 suddivisi in 1500, mi pare alfa pack perché più di 999 il gioco non li conta, poi ho aperto un pack, hyper fail. Epocale si apre così i pacchetti, comunque ne avevo 80 e purtroppo raga avendo lo scaf ho aperto, ho schizzato sulle palette dietro quindi un pacchetto così, quindi adesso ne abbiamo 79, poi ne abbiamo 82, 19, 1, 1 di questi ragazzi ne abbiamo quanti ne volete. Dovrebbe essere qui di esport 527 dovrebbe essere la collezione più grande al mondo, poi voi sarete più informati di me ma io attualmente non ho visto nessuno con una collezione simile. Quindi per quelli di voi che hanno detto gli alfa pack no, magari sono gli oltre 30 milioni di punti fa ma sbagliato anche quello ragazzi, è esattamente il grado champion colossale. Guardate qua che violenza mega galattica, interrompiamo il matchmaking che magari adesso a 5 secondi mi trova il game perché il gioco magari impazzisce ma mega top plus ultra ragazzi per la prima volta in assoluto. Ho raggiunto questo grado così ambito da moltissime persone e non è stato per nulla semplice in quanto ormai da 3-4 anni io mi sono spostato completamente su pc e console l'ho abbandonata, non ho più un gruppo di persone con cui giocare. E quindi ho chiesto su instagram chi volesse venire a giocare con me per cercare di hittare questo grado e in tantissimi di voi raga avete risposto alla mia richiesta e quindi vi ringrazio dal primo all'ultimo anche se ci sono state cose alquanto allucinanti persone che insultavano altre persone raga dovevate sentire quello che si dicevano. Non si può giocare in un gruppo dove ci si insulta, ci sono tensioni, vi dico subito ho fatto tutto questo solo ed esclusivamente per il ciondolo ovvero questo scorpione mega galattico rosa gigantesco che mi piaceva un sacco e quindi mi ero focussato per prendere il champion solo per questo caspiterina di ciondolo perché tutte le altre season io ve l'ho sempre detto a gradi champion e l'ho anche adesso sperimentato sulla mia pelle. Ci si arriva con un gruppo ma un gruppo affiatato giocare con persone che si credono straforte magari se lo sono anche però non si amalgamano bene con la squadra non c'è un bel gruppo non si va da nessuna parte. Io il diamante 5 l'ho preso giocando in 5-4 persone alcune volte in 3 però principalmente quasi sempre ho 4-5. Di ragazzi tranquilli mi pare nessuno fosse top champion atomico tutti abbastanza si champion diamanti smeraldi molto easy relax alcuni urlavano gente che si insultava poi non hanno più giocato c'è il primo che fa così raga prende e parte. Però poi da diamante 1 a champion quello è stato veramente difficile e quel grado ho fatto un paio di partite in full stack con persone random ma è difficile anche quello raga prima volta che giochi con qualcuno non sai come gioca ti devi un attimo conoscere. E' stato veramente difficile soprattutto perché il diamante 1 a mio avviso è scriptato perché non è possibile che vai con una serie di vittorie e poi in automatico perdi 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 vinci perdi vinci perdi. C'è follia totale e quindi ho fatto un paio di partite in full stack da 5-2 o 3 mi pare o 4 poi vinte perse vinte perse e poi in 2 e in 3 easy tranquillo con persone che si divertivano si facevano le call non con quello che insultava faceva. Bisogna avere per raggiungere i vostri obiettivi che sia raggiungere l'oro il platinum lo smeraldo il diamante una unione bella positiva della squadra. Quindi morale della favola gioiamo tutti quanti insieme perché per la prima volta mi ero focussato di prendere il champion e ce l'abbiamo fatta tutti quanti insieme perché non l'ho raggiunto da solo ragazzi abbiamo raggiunto in squadra quindi top. Se anche voi volete provarci io personalmente ve lo sconsiglio perché il champion è un grado dove ci si deve impiegare veramente tanto tanto tempo e soprattutto avere un gruppo di persone dove vi trovate bene. Non importa giocare con quello top champ che ha il grado champion su 32 account 27 di KD perché per mia esperienza hanno portato a 0 veramente poco nulla forse 1-2 abbiamo vinto un paio di partitine ma non hanno fatto questa grande differenza anche perché ci ho giocato poi poco. Con altri invece ci ho giocato un po' di più hanno fatto lasciamo perdere io qui veramente persone normali affiatate brave e si raggiunge qualsiasi obiettivo quindi giocate anche relax perché ho visto un sacco ripeto di tossicità a livelli disumani un bagno di umiltà si dovrebbero fare tante 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 persone perché io non avrò stats devastanti ma io gioco per la squadra con la squadra quindi prendevo al Monti pushavo dentro magari boom quadrupla tripple eppure mi facevo 1-2 1-3 1-4 ti reclacciavi round riccavi coi bandit coi kaid cioè questo è giocare di squadra e vincere non importa tutto il resto cioè bisogna avere una squadra affiatata come il calcio ragazzi se c'è solo la punta super atomica ma tutta la squadra fa schifo non ti vai da nessuna parte ci vuole tutta la squadra bella compatta quindi spero che abbiate raggiunto il vostro obiettivo di questa season altrimenti raga non preoccupatevi a un videogioco ci sarà la prossima season e si vedrà quello che succederà speriamo in un matchmaking più corretto perché il matchmaking è quello che è mi auguro passiate una buonissima giornata gioite per me non siate invidiosi di qualcuno di quell'altro relax raga relax impegnatevi giocate e i risultati arriveranno noi come sempre ci teniamo aggiornati su instagram e soprattutto ci vediamo nelle dirette su twitch quindi trovate tutto giù nella descrizione ragazzi io vi saluto vi ringrazio per la visione e come sempre qua da bistarda è tutto e ci vediamo nel prossimo video e la fa luna ultima kill per vincere ce l'abbiamo partalo lì champion champion scongratolazioni bro top top 16 punti top 16 punti